Saluti sul canale a tutti in questo video parleremo della bocca secca, quali sono le cause, come si fa diagnosi e quali possono essere gli eventuali rimedi. Questa condizione della bocca secca viene anche diciamo denominata come secchezza delle fauci. Ovviamente può essere reale oppure può essere apparente perché in alcuni casi ci può essere una sensazione di bocca secca che ovviamente non corrisponde ad una reale riduzione nella produzione di saliva e questa condizione è un sintomo non un segno e va sotto il nome di xelostomia. In altri casi invece la sensazione di bocca secca è poi diciamo reale perché andando a misurare la quantità di saliva prodotta si riscontra all'esame medico un'effettiva riduzione nella produzione di saliva stessa. Questo è quindi un segno medico che va sotto il nome anche di iposcialia. Il soggetto che comunque avrà una ridotta produzione di saliva avrà diverse difficoltà tra cui problematiche nel parlare, nel masticare e nel deglutire perché la saliva coadiva in tutte queste funzioni di fondamentale importanza e poi il soggetto tenderà ad avere anche più carie e più gengiviti perché ovviamente si verificherà un'atrofia della mucosa orale e l'azione difensiva della saliva non ci sarà più e quindi i batteri della carie potranno agire più facilmente. Statisticamente possono essere colpiti tutti ma in media sono più colpite le persone anziane perché con la senescenza si ha una fisiologica fibrosi delle ghiandole salivari e di tutte le ghiandole del corpo umano ed è una problematica che tende a colpire maggiormente le femmine rispetto che nei maschi. Perché questo? Perché le femmine come vedremo a breve tendono ad avere malattie che predispongono maggiormente alla riduzione della produzione della saliva. Si stima che sia colpita da questa condizione all'incirca un quarto della popolazione. Diverse possono essere le cause, un diabete mellito scompensato, un abuso di alcolici e eventuali traumi a carico dei dotti o del parenchima delle ghiandole salivari, terapie radianti nel distretto testacollo quindi una radioterapia oppure una chemioterapia o anche una malattia autoimmune particolare che prende il nome di sindrome di Siogren che ho trattato a parte in un video nel mio canale che puoi trovare. E poi anche alcune sostanze come le metanfetamine, la cannabis e l'eroina tendono appunto a ridurre la produzione della saliva, così come anche un'eventuale disidratazione. Quando si ha per esempio una gastroenterite c'è una disidratazione generale del corpo e quindi ovviamente anche la produzione di saliva si riduce. E poi diversi farmaci possono provocare una respirazione orale, i diuretici, gli antistaminici, i decongestionanti, gli ansiolitici, gli antidepressivi, i miorilassanti e tanti altri. Un'altra causa è rappresentata appunto dalla respirazione orale e delle apnee ostruttive del sonno. La diagnosi si pone con l'esame clinico e con la ricerca delle cause alla base del problema. Successivamente poi si va a misurare la saliva che viene appunto prodotta. La terapia consiste nel rimuovere le cause che scatenano la ridotta produzione salivare. In più ovviamente è importante idratarsi, assumere diciamo anche la saliva artificiale nei casi più gravi o la pilocarpina che è un agonista colinergico e anche masticare le chewing gum. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace ed iscriviti al canale, condividilo con altri utenti per far crescere sempre di più questa community e per renderla sempre più utile per tutti. Ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video.